Dopo l'ampliamento dell'offerta delle visite guidate ma anche il percorso condiviso messo a punto per l'area ipogea di Sant'Agostino avete pensato anche a delle agevolazioni per i turisti, di che cosa si tratta? In realtà l'obiettivo è rendere la nostra città sempre più aperta e accogliente perché siamo consci che se una persona ci conosce riesce a scoprire le nostre bellezze sicuramente rimane sempre affascinato dalla nostra città quindi era una delle sfide aprire gli scavi di Sant'Agostino e oggi proprio avendo realizzato la Fano Visit Card che tutti i turisti hanno in mano l'idea è proprio accompagnarli alle visite quindi ci sarà un servizio di navetta gratuita a disposizione per tutti i turisti in possesso della Fano Visit Card potranno semplicemente prenotarla appunto chiamando al numero del servizio navetta quindi venerdì, sabato e domenica, venerdì dalle 17 alle 21, il sabato e domenica dalle 18 alle 24 sarà possibile essere portati direttamente agli scavi di Sant'Agostino e poi riportati nelle strutture ecco ora è importante che veramente tutte le strutture ricettive, devo dire in questi anni sono cresciuti molti anche case vacanza, appartamenti, bed and breakfast che stanno vendendo veramente tanto le strutture quindi è importante che tutti coloro che sono in possesso di strutture ricettive consegnino la Fano Visit Card ai turisti in arrivo, ai visitatori in arrivo e facciano conoscere tutti questi servizi che stiamo immettendo in campo perché solo così conoscendoci sicuramente parleranno bene di noi e torneranno nella nostra città